L'Associazione Guida la Tua Vita, che si prefigge lo scopo di diffondere la cultura della guida sicura e la prevenzione degli incidenti stradali, ha organizzato per il prossimo settembre la seconda edizione del Sud Motorespo. Si tratta di un evento che attira visitatori in Irpinia dalle quattro regioni limitrofe alla provincia di Avellino. Quest'anno è la seconda edizione. Noi come associazione Guida la Tua Vita e come delegazione ACI, dal 2004 stiamo portando avanti dei progetti sull'educazione stradale, né alcol né droga. Questo progetto Sud Motorespo è nato proprio per coinvolgere un po' tutte le scuole e i comuni dell'Altripina a far capire l'importanza dell'educazione stradale. Nel programma del Sud Motorespo la parte importante è che ci sono degli spettacoli, ma ci saranno una formazione, ci sono dei convegni sull'educazione stradale e faremo delle simulazioni sui incidenti stradali con il casco, senza casco e il pericolo del telefonino che oggi è la piaga sociale degli incidenti stradali.